Ciao, sono Miriam e sono un tutor giaschool per la scuola primaria. Oggi ti spiegherò la proprietà invariantiva della sottrazione. Innanzitutto, vediamo cosa dice la regola della proprietà invariantiva. Dice che in una sottrazione possiamo aggiungere o sottrarre lo stesso numero al minuendo che al sottraendo, e la differenza non cambia. Ora però, prima di spiegarti la regola affinché tu possa capire meglio, facciamo un breve ripasso su come vengono definiti in matematica i numeri della sottrazione. In alto troviamo il minuendo. Sotto al minuendo il sottraendo. E giù in basso il resto o differenza. Facciamo ora una semplice sottrazione. 86 meno 6. Se dovessimo trovare il resto, sarebbe 80. Abbiamo prima detto che la proprietà invariantiva dice che, in una sottrazione, possiamo aggiungere o sottrarre lo stesso numero sia al minuendo che al sottraendo. E la differenza non cambia. Facciamo allora la prova e aggiungiamo 1 sia al minuendo che al sottraendo. E vediamo cosa succede. 86 più 1 fa 87 e 6 più 1 fa 7. Ora, se faccio 87 meno 7 è uguale a 80. Come vedi, la differenza non è cambiata. Proviamo adesso ad aggiungere 3 al minuendo e 3 al sottraendo. Se aggiungo più 3 all'86 fa 89 e se aggiungo più 3 al 6 fa 9. Ora, se faccio 89 meno 9 è uguale a 80. E come vedi, la differenza non cambia neanche in questo caso. Ora, la proprietà dice che, se aggiungo o se tolgo lo stesso numero, non cambia nulla. Se prima, quindi, abbiamo aggiunto un numero, ora, invece, proviamo a togliere un numero e vediamo se è la stessa cosa. Togliamo allora dall'86 meno 2 e dal 6 meno 2. 86 meno 2 fa 84 e 6 meno 2 fa 4. Ora, se faccio la sottrazione e tu di sicuro l'hai già fatta prima di me, fa proprio 80. Ma a cosa serve la proprietà invariantiva della sottrazione? In realtà, serve proprio a fare i calcoli a mente in maniera veloce. Facciamo un esempio. Se ti dico, provo a fare più veloce che puoi, 86 meno 36. Quanto tempo ci metti a fare il calcolo? Adesso il risultato te lo dico io. 86 meno 36 fa 50. Ecco allora che, se avessi tolto 6 sia al minuendo che al sottraendo, avresti potuto fare 80 meno 30. Ma anche se avessi aggiunto più 4 sia al minuendo che al sottraendo, portando i numeri allo 0 come 90 e 40, avresti fatto il calcolo molto più velocemente. Ed ecco quindi a cosa serve la proprietà invariantiva della sottrazione. Per ora noi ci fermiamo qui. Ma tu non fermarti. Se non hai capito, riascolta la lezione, ma non ti arrendere. Dal tutor Miriam è tutto. Per ora, è tutto.